E' pronto l'uovo Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito oggi parliamo di temperature e di temperature riguardanti chi? Riguardanti lui, l'Apsan Zino Mini Pro, questo piccolo drone di casa Apsan che è stato chiacchieratissimo, che tuttora è chiacchieratissimo perché è un drone che ha delle caratteristiche, è un comparto hardware davvero incredibile, superiore anche al DJI Mini 2 come caratteristiche, come comparto hardware, però tutto questo gli comporta anche un problema di surriscaldamento, non che gli altri droni da 249 grammi con caratteristiche importanti cioè Mini 2 o anche il Fimi X8 Mini non lo abbiano, anzi il Fimi X8 Mini anche lui dopo un po' che sta fermo a terra, acceso, vi uscirà una scritta nel display che vi dice che il drone si sta surriscaldando, di spegnerlo e di aspettare che si raffreddi, anche perché quando c'è fuori con la scritta non ci permette nemmeno il decollo e questo succede ovviamente se le giornate sono calde succede in maniera abbastanza rapida, ovviamente d'inverno non succederà in maniera rapidissima, anzi magari non succede dipende che temperature ci sono, comunque c'è un problema di surriscaldamento perché comunque il comparto hardware di questi droni piccoli è comunque un comparto di droni importanti, in più è tutto compattato e diciamo che tutti i microprocessori, tutto quello che riguarda la scheda elettronica sono compattate, tutto questo fa generare un calore incredibile e ancora peggio è per quanto riguarda lui l'Apsan Zino Mini proprio perché il comparto hardware di questo drone è pazzesco, diciamo che è un comparto hardware simile se vogliamo a quello di un DJI Air 2 o 2S, quindi sensori anticollisione, luci a led, più ovviamente tutto quello che è la potenza di calcolo che deve avere, quindi i microprocessori devono lavorare tantissimo e tutto ovviamente è qua dentro, è tutto veramente ammocchiato, mentre su un drone, è più grande, abbiamo più spazio, ma soprattutto ragazzi abbiamo una ventola di raffreddamento che adesso in questi piccoli droni non c'è e probabilmente non ci sarà per un bel po' di tempo fin quando la tecnologia non avanzerà talmente tanto per cui con una ventola di raffreddamento potremmo rimanere sotto ai 250 grammi, ma secondo me ci vorrà tanto tanto tempo, quindi più questi piccoli droni avranno un comparto tecnico e caratteristiche incredibili più avranno questo problema di surriscaldamento, ovviamente Apsan è il primo ad affrontare questo surriscaldamento esagerato perché, perché è il primo comunque avere un comparto hardware così importante perché appunto è superiore a quello anche del DJI Mini 2, quindi non è una critica verso Apsan ma è solo un video per spiegarvi di stare molto molto attenti quando utilizzate questo drone, non tanto quando lo utilizzate perché ovviamente lui quando vola si raffredda perché comunque l'aria lo tiene raffreddato, ma quando è fermo a terra e la cosa grave è che questo piccolo drone a terra ci deve stare molto perché, perché come sapete Apsan non ha fatto uno slot della micro sd, quindi la memoria è fissa, quindi per poter trasferire i file dal drone al nostro computer dovremmo avere il drone acceso e collegare il cavetto al computer, però cosa succede? che finché trasferiamo qualche foto ok è veloce tutto va bene, ma se dobbiamo trasferire un video di 30 o 40 giga e ci si arriva tranquillamente perché lui se vogliamo registra video in 4k 30 fps a 200 megabit per secondo quindi il volume e le dimensioni dei video che andremo a creare sarà davvero davvero importante e questo purtroppo va poi a riflettersi sul trasferimento all'interno del computer perché un file così grosso ci metterà davvero tanto tempo trasferirsi e supponiamo che ci voglia anche di solo dieci minuti per lui diventano tantissimi perché lui in quei dieci minuti diventerà bollente perché il drone deve essere acceso per trasferire i file e soprattutto non so come mai Apsan abbia fatto la scelta di avere una micro usb qua dietro e non una type C che secondo me avrebbe dato più velocità nel trasferimento dei dati mentre loro hanno scelto di utilizzare ancora una micro usb non so perché magari c'è un qualcosa che non so è un motivo valido per cui io non lo so ma secondo me ci stava benissimo una type C quindi un trasferimento dati più veloce avrebbe permesso al drone di stare acceso meno tempo perché ragazzi davvero diventa incandescente e questa cosa potrebbe poi causare dei danni non parlo dei danni a voi quanto dei danni al drone che potrebbe non funzionare più perché tutto potrebbe andare a danneggiarsi e questo ragazzi è una cosa che non è da sottovalutare anzi state molto molto attenti è un po' lo stesso problema che si hanno anche con i droni fpv con i droni che montano le a riunite quando le andiamo ad aggiornare fare l'aggiornamento firmware ci mette un po' di tempo e queste ai riunti diventano incandescenti e anche qua si rischia di bruciarle quindi la mia soluzione che ho poi ho fatto anche un video short in cui lo spiegavo e prendere il fono metterlo su aria fredda perché comunque il forno fanno anche aria fredda gli sparate addosso l'aria fredda del forno ragazzi l'air unit rimane freschissima stessa cosa ragazzi fatela con lui mi raccomando quando trasferite file soprattutto di dimensioni importanti che il drone deve stare acceso per parecchi minuti prendete il forno e gli sparate addosso l'aria fredda col forno e lo mantenete ad una temperatura più che accettabile così non rischiate di danneggiarlo e lo stesso problema ragazzi lo abbiamo anche quando andiamo a fare la calibrazione dei sensori perché quando andiamo a fare la calibrazione dei sensori lui deve essere acceso ma la calibrazione in sé non ci vuole neanche tanto ma per fare la prima installazione del software che è anche abbastanza complicata e avevo fatto anche un video in cui ne parlavo perché dobbiamo installargli dei driver e la procedura non è semplicissima soprattutto per chi mastica poco l'uso del pc e quindi questa procedura che va fatta ovviamente una volta quando fate la prima installazione del software ma il drone deve essere collegato acceso quindi mentre fate tutto questo lavoro e cercate di capire come attivare l'applicazione come aggiornare i driver di questa applicazione tutte queste cose lui deve essere acceso e collegato e mentre voi fate tutto questo lui se ne bolle in una maniera incredibile quindi ragazzi state attenti raffreddatelo perché rischiate di bruciare un drone che comunque costa tanti tanti soldi e ripeto non è una critica verso Apsan ma è un problema che hanno tutti questi droni ovviamente lui di più per le caratteristiche che ha ma come vi ho detto tutti tendono a surriscaldarsi soprattutto se la temperatura dell'ambiente è caldo sarà ancora tutto più veloce però comunque si surriscalderanno state molto molto attenti probabilmente con qualche aggiornamento firmware magari qualcosa miglioreranno soprattutto ovviamente sull'Apsan perché magari faranno lavorare in maniera diversa il processore cioè magari qualcosa con i firmware migliorerà ma attualmente ragazzi è così e penso anche che comunque non è che possa avere un miglioramento incredibile perché è proprio un problema di hardware potentissimo hardware compattatissimo su questo piccolo drone non raffreddato con nessuna vento ma solo con l'aria che gli arriva quando vola che lo va a dissipare ma a terra ragazzi è un fornellino per cuocerci le uova quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho fatto vedere a cuocere le uova con l'Apsan Zino Mini Pro questo drone che praticamente fa tutto perché oltre ad avere un comparto tecnico che gli permette di fare qualsiasi cosa è in grado di cucinare anche le uova vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime, spoiler, stampe 3D, voli in FPV seguitemi quindi su Instagram iscrivetevi sempre se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test, i test che arriveranno dell'Apsan Zino Mini Pro, un tutorial o una novità Ciao!